Why are you still looking at me? I'm going to stand here 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 Vuoi utilizzare WhatsApp e Telegram senza fornire il tuo numero di telefono? Da oggi si può grazie a un'app Questa app si chiama Tess Plus è disponibile sia per Android che iOS Questa app fornirà in maniera totalmente gratuita un numero telefonico virtuale che possa essere inserito al posto del recapito telefonico personale in fase di registrazione e verifica dell'account In questa maniera si potrà evitare di utilizzare il proprio numero di telefono Puffbox, oltre a consentire la creazione del numero virtuale permette anche di effettuare chiamati e inviare messaggi da questo stesso recapito oltre a poter mandare email da un indirizzo di posta elettronica praticamente inesistente Anche questa app è disponibile su Google Play e Apple Store Grazie per la visione!